ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi ho deciso di riutilizzare i microfoni root molto 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 vicini perché vi è piaciuto tanto nel video tag dei suoni dalla A alla Z e quindi ho deciso di riproporvelo i microfoni sono un pochino messi in modo diverso quindi non mi era proprio l'effetto destra e sinistra però non mi era possibile fare una posizione esattamente destra e sinistra spero vi piaccia anche lo sfondo ho appena girato un altro video io con questo setup mi piace tantissimo tutte le luci così mi fanno impazzire soprattutto quella tendina lì mi piace tantissimo e non vi spoilerò perché è un video che uscirà lunedì oggi è venerdì e sapete che i miei video escono ogni lunedì e ogni venerdì alle 19.30 quindi questo è un video di oggi oggi è un video stra importante perché? perché è un video che vi avevo promesso da tanto tanto tempo ed è un video diciamo che è fatto per aiutarvi ma anche aiutarmi a essere più sostenibili e quindi anche più gentili con il nostro stupendo pianeta con il nostro meraviglioso pianeta io non sono di certo la persona con lo stile di vita più sostenibile di questo mondo cerco di fare il mio meglio e cerco soprattutto di farlo visto che sono un pochino agli inizi rispettando anche il mio stile di vita nel senso cercando di includere pian piano pian piano delle abitudini sempre più sostenibili nella mia vita senza stravorgerla a un momento all'altro questo perché se la stravorgerse da un momento all'altro per come sono fatta io mollerei dopo due giorni quindi e penso che molti di noi siano fatti così comunque normale voglio fare però una piccolissima piccolissima premessa per iniziare questo video non sono la persona più sostenibile minimamente minimamente ho tantissimo da imparare un'infinità di cose da imparare e da migliorare e soprattutto vorrei che questo video fosse principalmente un confronto quindi che voi mi diceste i vostri passi per essere più sostenibili e che anche nella sezione commenti si creasse un confronto e un suggerimento continuo perché è stra importante io do il mio contributo con il video voi date il vostro contributo sia con le azioni che con i commenti ecco perché voglio davvero che questo video sia il più utile possibile quindi davvero se in certi punti vi sembrerà un po' arrogante un po' preso così perché perché queste cose mi prendono e diciamo che mi danno un po' fastidio a certi comportamenti e a certe cose e quindi mi dispiace se risulterò non dico antipatica però insomma non piacevolissima non rilassantissima però questi sono dei temi importanti e mi pesi un po' il fatto che non siano cose grade importanti per molte persone quindi questo è quanto semplicemente quindi alcune cose che vi dirò magari saranno un po' scontate altre invece saranno probabilmente più interessanti per voi e altre saranno anche un po' più dolorose ma l'importante è comunque essere cosciente di ciò che si fa voi ok quindi parleremo sia di plastica ma anche di altri accorgimenti però la prima cosa scontata è che probabilmente con tutta probabilità conoscerete ma che è importante cioè io non mi fermerò finché ognuno di noi non avrà una cavolo di borrazza o più borraze con sé io ho questa qui della chili rosa con l'avocado sopra tra l'altro ho cominciato ad adorare l'avocado da poco e l'uomo bellissimo e la trovate sia su amazon ma vi consiglio di prenderla sul sito della chili perché la spedizione sarà senza plastica su amazon penso che un po' di plastica ci sia comunque e l'ho fatta prendere anche il mio ragazzo l'ho convinto e questa è stra comoda soprattutto quando siete in viaggio o fuori casa perché intanto io ad esempio in inverno ci tengo la mia tisona calda adoro e poi vi tiene l'acqua sia il fresco che il caldo vi permette magari di prenderla gratuitamente da qualsiasi fonte d'acqua potabile potete farvela riempire anche al bar ed è un sacco comoda perché quando sei via ci sono delle applicazioni di cui non so onestamente il nome ma che voglio trovare ne ho sentito parlare da qualche parte che vi permettono di trovare le fonti di acqua gratuite nelle città sia italiane che estere ad esempio io sono andata già due volte a Vienna quest'anno perché già abita una mia amica e a Vienna ci sono quindi vi so dire praticamente di quella città a Vienna ci sono abbastanza appunto fontanelle di acqua potabile per riempire la borraccia e quindi risparmierete ogni volta il costo di una bottiglia d'acqua così in università al posto di comprare la bottiglietta di plastica ad esempio userete la vostra borraccia so che alcune scuole hanno messo delle fontane gratuite addirittura hanno distribuito le borracce quindi è molto bello però non basta si può io ad esempio per casa per visto che i miei genitori non sono troppo convinti e continuano a comprare bottiglie di plastica io le accumulo e poi le vado a riempire alla fonte all'acquedotto e c'è sia l'acqua gasata che naturale quindi è molto comodo e le vado a riempire quindi evito anche il consumo di plastica alla base perché se non riempiamo la nostra borraccia con l'acqua nella bottiglia di plastica a casa non si va molto lontano oppure ci sono ad esempio i si chiamano depuratori di acqua del rubinetto se la vostra acqua del rubinetto è potabile ci sono tantissime tantissime opzioni oppure si può farle capitare le bottiglie di vetro a casa ad esempio ci sono veramente tantissime opzioni però è un passo importante perché se notate la metà della plastica che noi utilizziamo è dato dalle bottiglie di plastica per l'acqua ed è assurdo ed è bruttissimo ok secondo punto sempre parliamo della plastica è cercare di evitare il più possibile il più possibile la plastica negli alimenti soprattutto perché perché la plastica che ha lo scopo solo di proteggere cioè che viene proprio buttata così non ha lo scopo dopo la teniamo rifattiamo qualcosa se la riutilizziamo no non ha scopo veramente è una cosa assurda e sempre qui magari mi rivolgo soprattutto a persone della mia età o anche più piccole persone che vivono con altre persone che non fanno questi gesti cercate di dare una mano a voi io ad esempio vado spesso io dal fruttivendolo perché se andiamo al supermercato a prendere la frutta e la verdura quasi sempre è impallottolata nella plastica tutto una carota praticamente con un chilo di plastica attorno e non ha senso anzi la fruttivendolo tra l'altro io il fruttivendolo da cui vado ci sono anche le buste di carta quindi zero plastica l'unica cosa per cui si trova la plastica ad esempio i frutti rossi i frutti di bosco e a volte le bicocche ecco ci sono certe cose per cui guidare la plastica è un po' più difficile però per soprattutto le verdure penso le zucchine le carote i finocchi queste cose qui vi prego l'insalata nella busta no 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 vi prego o l'insalata che comprate al supermercato quella proprio lo snack tipo insalata così da mangiare al volo vi prego no è uno spreco di plastica assurdo che non ha senso dedicate 5 minuti la mattina a farvi la vostra insalata piuttosto e non date una mano al nostro pianeta perché poverino non ci ha fatto nulla di male quindi la plastica soprattutto in frutta e verdura ma anche penso ai biscotti penso alle merendine tutte le merendine che prendiamo alle macchinette andrebbero evitate portatemi la merenda da casa vi prego perché sono avvolte nella plastica molte cose possono essere ci può essere alternativa carta o plastica oppure vetro o plastica penso anche ad alcuni barattoli che a volte sono di plastica ma potete trovarli anche di vetro e alcune salse a volte sono in plastica a volte sono in vetro quindi cercate di badarci cercate anche di badarci magari al posto di persone che non ci vogliono badare che non hanno tempo per badarci che non ci tengono abbastanza in generale bisognerebbe sempre per ridurre al massimo la plastica andare per ogni cosa nel suo posto quindi per la frutta il fruttivendolo per la carne dal macellaio ma parliamo di carne dopo tra l'altro per che ne so per la pasta dal tizio che fa la pasta il massimo sarebbe così per le uova dal contadino eccetera non si può fare sempre così però bisogna cercare di farlo il più possibile perché è il modo in cui si riesce a ridurre tutta la plastica che invece troviamo nel supermercato terzo punto e qui arriva la botta preparatevi ma è una realtà che non si può ignorare ancora vi prego ed è mangiare meno carne e meno pesce possibile l'ho detto ok adesso lo farò commenti tantissimi commenti soprattutto la carne bovina perché non so se lo sapete ad esempio il perché la manzone sta bruciando perché perché hanno il metodo più veloce di creare del suolo per coltivare soia e allevare soprattutto bovini per fare gli hamburger eccetera 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 ma questa soia non viene destinata ai vegani viene destinata a questi animali quindi in realtà anche se non vengono queste rene non vengono usate direttamente per l'allevamento vengono usate poi come conseguenza degli allevamenti quindi tutta questa soia in realtà è per gli animali e non è per noi i notti allevamenti intensivi consumano tantissima tantissima acqua gli allevamenti intensivi di mucche emettono tantissimo anidride carbonica tantissima vi consiglio dei documentari vi lascio tutto giù in descrizione e se voi avete dei documentari da consigliarmi scrivetemi scrivetelo anche nei commenti e magari li aggiungerò nella descrizione perché voglio davvero che questo video sia istruttivo da entrambe le parti se avete qualcosa da dirmi qualcosa da suggerirmi vi prego scrivetelo in modo che i commenti siano utili e costruttivi quindi si gli animali purtroppo per come sono allevati ora per come la maggior parte è allevata ora quindi allevamenti intensivi consuma tantissima acqua e cibo che potrebbe essere destinato direttamente a noi e purtroppo bisogna mangiare se non assolutamente zero carne meno carne e cercare di prenderla localmente dove sapete che non c'è un allevamento intensivo quindi bisogna evitare tutti i fast food una cosa che perdonate davvero il cane ma è l'unico momento in cui riesco a registrare questo video e i cane mi sto rompendo le palle ok amo i cani ma veramente appaiono troppo questi qui e quindi bisognerebbe evitare tutti i fast food adesso ancora non vedrete più video eating di McDonald's Burger King e altro perché perché un vostro hamburger del McDonald's sfigatissimo ha consumato 25 litri d'acqua per un solo piccolo piccolo hamburger che non vi sfamerà neanche così per svizio mi avete mandato le foto di tantissime persone che dopo la manifestazione sull'ambiente sono andate in massa dal McDonald's è una cosa contro senso magari quelli ne hanno fatto anche in buona fede non lo sapevano però oltre al fatto che il McDonald's è pieno di plastica ha anche questa cosa che tutta la carne che c'è all'interno deriva da allevamenti intensivi perché parliamoci chiaro ed è uno spreco di acqua incredibile un solo hamburger piccolino qual è il costo un euro sono almeno 20 litri d'acqua bene e vi assicuro che gli hamburger vegetali sono tanto buoni quanto quelli di carne almeno per me io ho riscoperto un mondo e io vi giuro che il mio prato preferito era un hamburger lo sarebbe ancora però non lo manzo più perché mi sento molto ipocrita e perché pesce le reti che si usano per la pesca intensiva sono la fonte dell'80% dell'inquinamento marittimo ebbene ebbene non è la bottiglia di plastica che c'è nel mare che per l'amore del cielo è terribile anche perché quella plastica poi alla fine la prendono i pesci e la mangiate voi ma questo è un altro discorso e non so se avete mai visto le barche le città che galleggiano che fanno pesca intensiva io l'ho vista in Namibia perché siamo andati a fare una diciamo città sull'oceano per vedere le foghe e se eravamo in oceano aperto e c'era questa barca che non immagino solo quanto inquini proprio a star lì nave enorme ragazzi inimmaginabile inimmaginabile mi immagino anche lavorare lì come sia orribile e mi immagino le loro reti giganti che poi perdono anche dei pezzi che finiscono in mare che intrappolano i pesci li fanno morire lì e che inquirano i nostri mari questa è la verità quindi anche qui volete mangiare pesce prendetelo localmente il più vicino possibile dalla pesca meno intensiva che riusciate a trovare perché anche il concetto è se dovete mangiare carne e pesce lo capisco assolutamente anche io non ho smesso ancora di mangiare completamente carne e pesce ma cercate di farlo in modo più sostenibile possibile quindi cercate di prendere le cose il più localmente possibile il più vicino possibile dai fornitori piccolini dai fornitori vicino casa vostra è importantissimo esempio il mio obiettivo futuro spero il primo possibile è di eliminare il sushi perché purtroppo di quel pesce o almeno il sushi fatto nei ristoranti magari fatto da me posso controllare anche l'origine del pesce anche se nei salmone camberi soprattutto salmone non è proprio delle nostre zone quindi sì questa è la dura verità è inutile che voi vi diate la cannuccia quando poi mangiate in continuazione il pesce che non sapete da dove deriva o mangiate tre hamburger al mcdonald perché purtroppo è ipocrita quarto punto questo video sarà lungo quarto punto questo è solo per le donne la coppetta vi linko giù un video di Irene cime di rapa che parla bene di una coppetta che tra l'altro uso anch'io quella marca mi ci trovo benissimo e purtroppo il periodo delle mestruazioni è un periodo in cui la donna inquina tantissimo e dico veramente 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 tanto e la coppetta è una cosa comodissima sostenibile più igienica quasi non le trovo l'unica cosa è un po' scomoda quando si è non nel proprio bagno però quasi cioè dura talmente tanto che si può andare e tornare da un posto e non cambiarla è fantastica cioè ve la consiglio troppo e nel caso ci sono gli assorbenti lavabili penso abbiamo fatto un video anche una ragazza che si chiama Tiny Seeds of ASMR è italiana comunque e vi lascio giù il suo link che ha fatto un video sulle mestruazioni ecosostenibili e vi lascio il suo link anche giù in descrizione se mi ricordo e quindi si per chi fosse interessato all'argomento andate a vedere questi video io la sto provando è tre mesi che ce l'ho e non me ne sto pentendo per niente è stupenda sia la sensazione di non avere l'assorbente sia la sensazione di non stare guinando il pianeta tantissimo quinto quinto punto è un punto di cui vi ho già parlato in un altro video quindi vi lascio il link anche a quello che lo lascio qui mi sembra ed è riferito soprattutto all'abbigliamento ma in generale comprare meno ma comprare meglio vi consiglio un documentario vi lascio il nome qui giù che si chiama mi sembra The True Ghost che parla prevalentemente che parla di fast fashion il fast fashion è tutto non vi conosco però il 90% di voi probabilmente farà il suo guardaroba da Zara H&M Mango Tradivarius Berska Pull&Bear eccetera 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 quelle sono catene fast fashion il fast fashion è quella moda che non ti permette non ha collezioni a rifornimento continuo di vestiti diversi ogni due settimane non riusci a starci dietro è quell'ambiente in cui le cose costano poco sono fatte male sono fatte in modo estremamente inquinante sono fatte male perché tanto fra un mese due mesi un anno ve ne scoccerete lo putterete comprerete un'altra cosa perché costa poco purtroppo però tutti questi abiti vedrete nel documentario ci sono delle bile incredibili di abiti inutilizzati praticamente perché? perché non è un'offerta un euro per non parlare di crollanti per non parlare di sfruttamento perché c'è anche questo in mezzo e sto parlando nelle marche come Shein Zaful Banggood tutte Banggood non vendeste però tutte quelle cose lì comunque anche io collaboravo cioè ragazzi questo maglione di Shein ci collaboravo prima di rendermi conto di questa cosa quindi sia chiaro che questo video non è per niente un giudicare qualcuno è un dirvi ciò che so fino ad ora quindi una cosa vi consiglio tantissimo per risparmiare avere cose di buona qualità è andare sull'usato io adoro comprare vestiti usati non è da tutti lo so se no comunque cercate di comprare meno cose ma più di qualità vi dureranno di più saranno più belle da vedere più comode da indossare vi staranno meglio perché saranno fatte meglio provate il più possibile soprattutto cercate di non prendere soprattutto quando arriveranno i saldi cercate di non prendere le cose solo perché costano un euro o due perché quell'euro o due costa molto 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 di più al pianeta purtroppo ok sesto punto è evitare di utilizzare tutto ciò che non è riutilizzabile qui ad esempio ho un dischetto riutilizzabile per struccare va messo in lavatrice adesso è sporco e questo è un esempio di come evitare cose che si usano e poi si gettano come i dischetti di cotone come anche gli assorbenti sono piccole cose però che possono veramente aiutare ad esempio bicchieri di plastica piatti di plastica posate di plastica vi prego vi prego vi prego vi prego evitatele il più possibile date una festa mettete piatti di carta esistono i piatti di carta se proprio dovete utilizzare qualcosa che si butta via dopo il primo utilizzo almeno vi prego usate la carta so cosa sta più di più l'obiettivo sarebbe usare provate a usare di tovaglioline piuttosto provate a usare delle posate vere fate questo sforzo perché è importantissimo quindi io spero davvero che questo video sia stato interessante per voi attendo i vostri suggerimenti nella sezione commenti sono sempre pronta a suggerimenti e a consigli e ripeto questo video è proprio fatto per essere anche un confronto utile consapevole e costruttivo quindi io penso sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi una buona 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 notte sogni d'oro buona notte sogni d'oro buona notte buona notte buona notte sweet dreams buonanotte dulce sueños buonanotte 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 bastichini buonanotte un bacione carisberg carisberg